Io li incontro volentieri anche domani mattina, anche qua sul pontile di Ostia se vogliono, perché sono alcuni anni che vorrei confrontare le loro chiacchiere con le nostre idee e quindi sono a disposizione quando vogliono e dove vogliono. Se vogliono divertirsi fra loro due, vorrà dire che vale il detto che fra i due litiganti il terzo gode.